La decisione del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sulla regolarità delle firme per le passate elezioni regionali arriverà entro domani. Lo ha detto il Presidente del Collegio alle parti prima di chiudere l'udienza e valutare la regolarità delle firme di alcune liste a sostegno dell'attuale Presidente Sergio Chiamparino. Nel corso della discussione dei ricorsi l'Avvocato Alberto Alessandro Caretta, che rappresenta la ricorrente Patrizia Borgarello della Lega Nord, ha chiesto nuove attività istruttorie. Per presentare il ricorso spiegato abbiamo avuto 30 giorni. La norma non prevede che in collasso di tempo un cittadino faccia da solo tutti gli accertamenti necessari, magari esaminando le firme una per una, ma solo che fornisca la prova dell'esistenza di un vizio tale da inficiare la validità del procedimento elettorale. A differenza di quanto sostiene la nostra controparte, non è possibile decidere una causa come questa basandosi sui pochi atti che abbiamo potuto raccogliere nei 30 giorni di tempo previsti dalla norma, conclude l'Avvocato. Il destino della Giunta regionale piemontese è dunque per la seconda volta nelle mani del Tar, nel giro di un anno e mezzo. Nel gennaio del 2014 i magistrati amministrativi decretarono la caduta del leghista Roberto Cota per la formalizzazione della candidatura di una delle forze alleate e pensionati per Cota. In questa nuova occasione si tratta di presunte irregolarità per la raccolta delle firme di tre liste a sostegno di Chiamparino. I giudici nella sentenza parziale depositata lo scorso febbraio hanno scritto a chiare lettere che non potevano procedere prima della conclusione dell'inchiesta penale della Procura di Torino e l'inchiesta non è ancora terminata, finora ci sono 13 indagati. È anche vero comunque che il Tar ha ricevuto dai pubblici ministeri i documenti e che non ha bisogno di sapere chi verrà rinviato a giudizio e per quale reato. Chiamparino, del tutto estraneo all'indagine penale, ha detto più volte che non intende tollerare lungaggini e che di fronte a una qualsiasi pronuncia che getti un'ombra sulla legittimità formale della sua candidatura, non potrebbero che esserci le dimissioni. Il tutto è collegato a una questione di numeri. L'avvocato Caretta afferma di aver rilevato 984 firme false o irregolari, sufficienti, dice, per annullare la lista. Di parere opposto la squadra legale capitanata dal professor Vittorio Barosio. Il listino ha raccolto 2.292 firme e quelle che in teoria si possono contestare sono al massimo 442. Fatta la sottrazione ne restano 1850, che sono 100 in più di quelle che ne servivano. Insomma, alla fine a decidere saranno soltanto i giudici.